La città dei ragazzi di Cosenza è stata la location d'eccezione per un bel pomeriggio di festa dedicato ai bambini delle case famiglia. Abbiamo voluto promuovere una iniziativa che potesse in qualche modo mettere in contatto i bambini che sono delle case famiglie, i nostri ragazzi con gli altri ragazzi che provengono da altri luoghi, che sono di altre etnie. E' un laboratorio anche integrato con doni che sono stati dati su oggetti anche riciclati per capire quando sia importante proprio questa idea del riuso, del riutilizzo. Insomma, una iniziativa che ha in qualche modo messo insieme tante idee, utilizzata una struttura così importante come quella della città dei ragazzi, anche perché qui adesso riprenderanno le attività. Noi siamo molto attenti alle politiche sui bambini, vogliamo costruire, ci stiamo lavorando una città che sia a misura di bambino, e quindi voglio dire qualunque iniziativa che va in questo settore è sempre un'iniziativa che per noi è importante, che portiamo avanti con grande determinazione. La festa ha avuto inizio con un suggestivo spettacolo degli sbandieratori di Bisignano, mentre nelle sale interne sono stati allestiti tavoli con dolci e bevande. Abbiamo cercato anche di far contividere momenti di gioia ai bambini di case famiglie insieme ai nostri bambini, perché è questa la solidarietà, la beneficenza non può calare dall'alto, ma deve scendere dal piedistallo. Le artigiane di Ricicrea infine hanno preparato i loro specialissimi doni che sono stati consegnati a tutti i bambini presenti. Come Ricicrea abbiamo preparato tutti i regalini per tutti gli ospiti delle case famiglie, tutte e cinque le case famiglie di Cosenza, con tutto quello che avevamo a disposizione, quindi dalle stoffe, barattoli di latta, unendoli a degli altri doni dati dal comune, a questa bella festa organizzata dalla FIDAPA con buffet e animazione. I bambini delle cinque case famiglie di Cosenza, grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, della FIDAPA e di Ricicrea, hanno potuto godere di un momento di grande gioia e spensieratezza e un prolungamento della festa della Befana tutta per loro.